vale io dovrei essere live sul tubo arrivo subito bella come posso chiamarlo live la chiami non ho le mani creos legendary fingers le mani pervigna la legendary fingers corporation presents welcome to anthem and the legendary fingers my name is 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 i want to touch this resty spoon è uguala orco gesù demonio bastardo ecco non sotto terry first blood alle ma testa arrivando malefico folle oppure no oddio non sta facendo due spari porca puttana muori ai 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 oto guarda il film sarà l'ultima sfida da fare perché poi dopo iniziano con le nuove la forgiazza di minchia ho fatto una nuova configurazione che la devo provare in grand master 2 vabbè però dai porta di quella troia mi sono abbastanza curiosi per provare il krios versione velenosa questo si è beccato un headshot in bocca guarda ah già ci abbiamo il venom krios alè dai eh dobbiamo vedere il venom krios è un tank dunque a proposito io devo vedere se c'ho contratti violacei aiuto madonna giocare a world war 3 aumenta le skill su battlefield cioè madonna allora ecco mandare in bicicletta e andare a giocare andare a guidare madonna c'è quando ti log di krios fammi sapere se hai dei contratti viola se no io ce n'ho uno da poter prendere eccolo eccolo il coboloso il coboloso coboloso siamo live su youtube for anthem and friends the legendary fingers anche 3 anche triggers to twitch twitch to switch watch hello twitch hello twitch hello twitch hello twitch imizziamo a dire delle bestemmie così viene bannato si si guarda tanto in lingua inglese quindi se bestemmiamo in italiano ma benissimo god pig ok allora mister krios invitato aspetta che entro non neanche il tempo di entrare mister coboloso invitato e mister pignoso invitato can you die olè meccati la granella stronzo bam in bocca a ma come l'ho invitato ma non stai manco giocando che cazzo di invito a perché stai giocando a battlefield si adesso arrivo fatto l'ultimo assalto op coboloso c'hai qualche c'è qualche contratto di ola per caso non ne ho la più pallida ok io ne potrei prendere uno sto andando adesso a vedere che se me li fa prendere perché io c'avevo oggi c'avevo quelli di ieri però li ho fatti oggi era un martedì di giovedì notte era un martedì di giovedì notte era molto la notte era molto oscura non credo che mi faccia prendere hai tontinto krios mi hai dato picchi all'invito vedo bravo no no sei bravo invita invita signor butt e wing invita invita eccolo altro che invita e no fermo me le fa prendere no vabbè adesso vediamo se il criogine ce n'è qualcuno io c'ho da prendere vai prendili te che io c'ho uno in attesa io devo prendere la zarpay devo fare i contrattini di matias con i bianchi oddio sto schifo di bug del cursore madonna il cursore e voilà siamo tutti qua bene se voilà non è qua se voilà è la è la comunque ho fatto un'altra variante anomala che adesso sto usando la railgun elettrica con dei benefit agli elementali e cavoli vari alieni elementali c'ho anche qualcuno c'è la disarcer protocolls a proposito di cazzo di bene no nessuno c'è niente perché le abbiamo già fatte oggi mi sa ah ok no vai vai perfetto scusa li prendo tutti subito ah non so quando vado a prendere la coca ecco vai vai lo sniffone con il naso di mediani allegato ma gm2 dai sì sì gm2 eccolo qua dunque però devo stavo pensando che visto che è elementale se non ero l'elemental rage mi dovrebbe molto aiutare questa cosa chiesa eh già allora elemental rage dove sei? ma stai giocando col thunderbolt? eh no sto giocando con la railgun del ranger che fa un boato di danno elettrico allora elemental rage vediamo un po' in chi sarebbe? il come si chiama? ah quello da abbraccio quello da abbraccio si ok no no dicevo come arma eh come arma come arma c'ho il cycle of pain e come secondaria avevo il death from above perchè mi dava tipo più un 18% di damage elementale però è vero pure che con l'elemental rage potrei risolvere la questione però devo vedere che bonus che altri bonus mi da questo mi da più il 70% di scudo abbastanza figo non so se rimettere il secolo 3 però e eccolo mamma mia provami ciao devo vedermi a stream quindi eh per esempio siamo lì per esempio per esempio madonna ah ma ci c'è questa voce dai zitto eh a prenderne troppi te l'ho detto non sono abituato come te che ormai ispirano lisci come l'olio ecco ci ho un elemento in rage un elemento in rage che mi da più 24% di armor e più 70% di scudo ma sei interessante sei va, ti provo Ma poi lo vedi sclerare che non funziona niente Se che non funziona un cazzo muoio malissimo Vabbè Ma cazzo tolgo l'audio dalla live di Youtube Eh basta che chiudi l'audio di Youtube C'è il bottoncino Chiudi l'audio Giustamente Ciccio non è che per supportare il fratello Va a vedere la live Twitch No Va a vedere uno sconosciuto su Youtube Eh no ma sei anche tu live ciccio Sei veramente uno scambolo Mettetele di va ci siamo Vai aprile tutte e due così supporti tutto il mondo Perché non mi da Madonna appena le faccio io ci sarà il pieno Mamma mia Deserto di sabbia praticamente Ah ce l'ho fatta Appena arriva la fibra Eh quando arriva Dai ciccio dopo seguo anche la tua streamer Bravo Cillo ma son dieci anni che diciamo Appena mi arrivo Appena mi arrivo Ma non è vera È solo che lo scorso È da quando ti conosco che aspetti la fibra ottica Praticamente Eh no Hanno festeggiato i vent'anni di fibra ottica folle Diciannove di clan e vent'anni di fibra ottica Sì È folletto ancora con la 56k Ma non te ce ne vorrei il 56k Ma no Credetemi loggo Comun Eh no Sì ciccio anche tu In effetti stai regredendo alla 56k Mamma mia Andava più veloce nel 2006 Eh che ti devo dire In realtà è la fibra delle erbe Beh in waiting Matthias Let's see some details Ah les Signor Bat Signor Bat Dove va Bat Dove va Scusiore Ma già il Venom Il Venom Dove è il Venom Dov'è il Venom Coblebleble Marco Ah guarda guarda il Venom bianche e verde Ecco Il grigino chiaro eh Il grigino chiaro Il grigino chiaro Il delicato Troppo poco verde Eh beh deve essere delle sfumature Non è che deve essere Madonna vedi sfumature di verde Di verde Ma quindi vi manca Vi manca uno storm Che ci manca al personaggio qui Ma C'è lo gioco a Ubi Basta Bella Io ce l'ho al 100 metri da casa No quasi non 100 metri Ok Occhio è pieno di mine qua eh Ma questa che configurazione è Questa Guarda qua che roba Col teschietto in fronte è bellissimo Ehm Questa è una configurazione anomala che sto provando adesso per la prima volta Questa Perché non è il blu ranger Non è il camo Non è il camo Eh infatti questa è un'altra che praticamente si basa su questo cannone elettrico qua Oh 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 Vabbè Non è che iniziare un altro mob e usa l'ultimo Orco due Un cannoncino elettrico Eh un cannone elettrico che dovrebbe fare un quadrante di danni Ehm Vediamo Eccolo tiè Guarda questo vediamo un po' che si affronta Cosa ho sparito? Ok Entendendo Ah ma non era un élite perchè non mi caricava i danni Vabbè No Ah questa ho sparito ok perfetto Vabbè Ehm Stanto significhe signore santo come si vede? docente? assolutamente si da cellulare si vede benissimo intanto mentre riguardo faccio pure stretching che bravo senti senti il trattata che c'è? guardalo proprio lui qui anche folle sei ranger come ti danno hai? e una cesta di micetti oh masterwork ti danno però che è micetto micetto c'è sto un po' troppo e l'ultima è già pronta un po' troppo e l'ultima è già pronta un po' troppo combo oh masterwork ok spook che oggi deva ha detto a un certo punto che un ticcio è riuscito a droppare in una sola run 5 masterwork e 2 legendaria si si però noi cioè creos è riuscito a droppare tipo ehm ho fatto la run quella lì che abbiamo fatto due volte e 10 masterwork ma non mi stendono le cose potenti folle son già potente io di mio su ma sei su un'uso di macro anche per sparare due traste Se non ho visto un tizio che ha l'Interceptor, su Twitch, ed era devastante. Non ho ancora visto il Colossus in realtà. Che mazzate! Oh, guarda che c'è qua! Oh, guarda che c'è qua! Cranaten! Ok, però comunque controllo l'acido mi serve assolutamente niente. E' bello. Apri il pass che lancia le granatine. Guardalo come lancia le granatine. Batti il genataio, guarda come lancia le granatine. Le granatine! Le granelle! Le granelle! Dalle mazzate che si sfregano! Ma a che livello state giocando? Master 2. GM2? Cri c'è la piazza E' un pochino. Che è un pochino. Che bello! Cri c'è l'aplanetica! Che è lui che viene avanti! E' un pochino. Chissà! L'aplaneta! Questa è praticamente un doppio Detonator, perché la Railgun è Detonator e la Granata è Detonator, quindi spigna Detonazio. Ah, sta... Stappo? Dunque, io ho preso due Masterwork, forse tre con la Masterwork finale. Ci facciamo due risate su che tipo di Masterwork ho preso. Veramente damaro il tuo bat comunque. Sì, beh? Bellino proprio. Veramente bello. Col teschietto in fronte, veramente eh? Sì, sì, sì. Che poi è teschietto a bandana, perché c'è anche la bandana arancione intorno. Adesso su una fascia. Sì, sì. Vedi mal di testa, vedi? Ci c'ho pistolina. Il suo Venom non mi piace. Questo suca, vediamo il prossimo. Ma come non ti piace? Vabbè, sei facile. Parliamo di te che ha dei gusti abbastanza discutibili su... Ci c'è pure suca. Io ho dei grandi gusti. Eh, ovviamente. Ah, poi il Venom, fallo viola scuro. Ma perché? Non hai visto uno? Fallo... Fallo come il Pokémon. Come il Pokémon. Come il Pokémon. Come il Pokémon. Figa. O Cobra. No. Cobra. Arbok. E... E... Eccans. Quel Death From Above. Sembra abbastanza figo. Gli altri due Masterwork fanno ride. Ma li melto tutti. Intenzione. While hovering, increases weak point damage by this. Che scatto! Si, e poi c'ha pure il 40% di danno critico. Quindi è interessante. Ma la cosa interessante è il 50%... 55% di armatura. E quello è... È Bonvue. Vabbè, comunque. Elementor. Guarda come salveggia. Salveggi, salveggi. Che è successo? Il Pignoso è andato offline. Ma era... Il Pignoso è caduto di brutto. Dal secondo terzo piano. Bene. Ma... Era da lui che sentiva la voce... Qualcuno gli ha strappato i fili del computer, forse. Parcandia dia, porco. Ah, eccomi. Prego, prego. Bentornato. 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 Ok. La linea che perde... Caso, le robe. Dunque, aspetta. Io posso andarmi a prendere un altro contratto Viola. Dove? Io c'ho anche l'altro, eh. Io ne ho già presi tutti e due. Beh, non lo vedi il contratto Viola tuo nel... Come farlo? Allora, aspetta che rivado e controllo. Non dire... Non dico? C'è Hazard Pay, Hazard Pay. Aspetta, aspetta che ora guarda. Poi due contrattini gialli. Vedo un certo numero di contrattini gialli. Però... E il tuo guarda su e ho giù. Dunque, Hazard Pay... Hazard Pay... Hazard Pay, eccolo qua. Eh, mi ero sbomballato. Eccoci qua. Perfetto. Ah, devo invitare il Follhouser. Che non si può fare da lui. Adesso, ogni volta. Madonna. Eccolo qua. Fammi essere sicuro che entra in squadra. Perfetto. E allora... Eh? Se ne sono dato le nomi? Olè. Cuoliti! Arredatevi. Mettetevi un paio di divani, un paio di sedi, un tavolino. Ma metti Grand Master 3, dai! Spingi! Ma se ne valesse la pena. Il problema è che, secondo me, ti fai ancora troppo culo per quel che ti dà. Noi, vediamo magari con la prossima patch che dicono che riscalano ancora meglio. Ma l'avete già fatta, Grand Master 3, qualche missione? Sì, però veramente... C'è un tempo infinito, capito? Cioè... Però si finisce, comunque. Si fa... Vabbè, tutto si finisce. Anche se ti sbombano tanto puoi risponare, quindi non è che non la finisci la missione. Non è come in Destiny che fallivi la missione e ti mandava a casa piangendo, no? Questo lo chiudi comunque. Il problema è che ci metterai una vita. Alla fine, metterci una vita per prendere forse una virgola in più di quello che prenderesti a Grand Master. Vabbè, non ha senso. Che cazzo te lo fa fare? Mr. Creole, spingi il bottone gigante, quello rosso. Non è giustificabile coi tempi. Io l'ultima volta che ho giocato a Gen3, ho fatto una Tyrant Mine. Ci abbiamo messo 40 minuti per arrivare al boss, poi 45 minuti solo per fare il boss. What? E poi magari non prendi manco un cazzo, cioè... No, no, no. Un'ora e mezza di missione dopo che sei andato a dormire per la stanchezza. Eh, sì. L'occhio incrociato. Sì, che dopo un'ora di missione mi devo fumare tre sigarette in fila per il nervoso. Cioè, poi ti ricordi com'è la mia mentalità riguardo dei ride di Destiny, no? Cioè... Io farmi un'ora e passa di missione per... Non mi interessa quello che mi dai. Eh, lascia stare cazzo. Che i ride di Destiny c'è quattro ore di missione. I primi ride, quattro ore. Stavo sparando. Sì, infatti. Mi devi regalare un gioco gratis per quattro ore di missione. Ti dà la soddisfazione, mamma, e vale la pena. No, ripeto, mi devi regalare un gioco gratis dopo quattro ore di missione. Attenzione. Guarda questi begli uccellotti. Gli uccellini. Oh, torretta. Proprio lei. Proprio qua che arrivano. Minchia, ma c'era un delay clamoroso. Eh, quanto sarà? Dieci secondi delay, forse. Ah, no. Sti cazzi. Si era disincronizzato. Eh, ma la connessione in hotel può cagare. Anzi che ce l'hai. Sì, ma... Eh, ma dopo devi fare come master laner, che ci sono due delle connessioni inglesi che fanno cagare. Irral. Nooo!